Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise. In apertura di telegiornale andiamo a Termoli perché oggi pomeriggio sono arrivati tre tir della Croce Rossa italiana con tutto il necessario per costruire un ospedale da campo. C'era per noi Manuela Iorio. Vedere arrivare in fila uno dopo l'altro i tre tir della Croce Rossa dalla misura, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto sia grave qui in Basso Molise l'emergenza. I mezzi sono partiti intorno a mezzogiorno dal polo logistico di Avezzano e poco dopo le 15 sono arrivati a Termoli. L'area che è stata individuata per allestire l'ospedale da campo si trova all'interno di uno dei parcheggi del Santimotio, vicino ai locali della farmacia. Una zona di circa 2000 metri quadrati dove sarà montato un nucleo centrale da cui partiranno tre bracci, ognuno con otto posti letto, come spiegato da Pierluigi De Ascentis, responsabile del polo logistico di Avezzano. Verrà montato un ospedale da campo di nuova generazione, un ospedale da 24 posti letto, completo di 24 posti letto di degenza. La tempistica noi immaginiamo che se non abbiamo nessun problema di percorso intorno a mercoledì dovrebbe essere pronto. L'ospedale è completo di servizi igienici, di letti di degenza, comodini, tutto quello che c'è in una stanza di ospedale. L'unica differenza è che sono tende da otto posti per tenda. All'arrivo sono stati scaricati tutti i materiali, contenere le tende. Nella mattina di domani inizieranno invece i lavori di allestimento dell'ospedale da campo, che vedrà impegnati insieme alla protezione civile anche tutti i volontari molisani della Croce Rossa. Una volta pronto sarà impiegato personale dell'associazione, in tutto 27 operatori sanitari, di cui 10 medici, 12 infermieri e 5 os. L'organizzazione interna verrà decisa dall'ASREM. Al momento l'orientamento è quello di trasferire nell'ospedale da campo pazienti ordinari di altri reparti, molto probabilmente l'intero reparto di medicina, in modo da liberare all'interno del Santimoteo posti letto di subintensiva per i ricoverati affetti da Covid. L'obiettivo è quello infatti di allentare il più possibile la pressione sull'ospedale di Termoli. L'ultima settimana è stata drammatica, con numerosi ricoveri e con il decesso di pazienti molto giovani. E adesso facciamo il punto della situazione sull'andamento del coronavirus qui in Molise. Oggi ci sono 27 casi nuovi positivi, però purtroppo si registrano anche 5 decessi. Ci dice tutto nel servizio Anna Maria Di Matteo. Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid in Molise e crescono in maniera drammaticamente esponenziale i ricoveri. L'ultimo bollettino dell'ASREM parla di 4 persone decedute, un uomo di Termoli di 80 anni che era ricoverato in terapia intensiva, un 62enne di Macchia Valfortore, un uomo di 94 anni di Isernia e un 82enne di Santa Croce di Magliano che erano tutti ricoverati in malattie infettive. A loro si aggiunge una donna di Sant'Elia Pianisi deceduta in una casa di riposo del paese. Sono 20 pazienti ricoverati tra il Cardarelli, l'ospedale di Termoli e il Gemelli Molise. Scende invece il numero dei positivi, 27 su 323 tamponi processati. Il maggior numero di casi, 6, si registra ancora una volta a Termoli. 3 nuovi positivi a Agnone, Campobasso e Campomarino. 3 i guariti. Gli ottalmente positivi sono 1.734. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 97, di cui 80 in malattie infettive e 17 in terapia intensiva. 10 quelli ricoverati al Santimoteo, 16 al Gemelli. I pazienti deceduti dall'inizio della pandemia sono 340. Le persone che hanno sconfitto invece la malattia sono 8.110. E vediamo adesso con i dati l'andamento della pandemia in Molise. In un mese raddoppiati il numero dei positivi e quello dei ricoverati in ospedale, pazienti trasferiti fuori regione e età delle vittime che si abbassa. Il tasso di mortalità della nostra regione è più basso rispetto alle regioni del nord, ma è il più alto tra le regioni del centro-sud. Impressionante la concentrazione dei decessi nella seconda ondata. Quasi il 93% delle morti in Molise è avvenuto negli ultimi tre mesi. Il servizio è di Enzo Luongo. Pazienti trasferiti fuori regione perché non ci sono più posti. Età delle vittime che si abbassa. Il numero dei positivi che raddoppia in un mese, così come raddoppia quello dei ricoverati. E questa è la fotografia della pandemia in Molise negli ultimi 30 giorni. Partiamo dai contagi. Un mese fa, a metà gennaio, erano 345 alla settimana, con un tasso di positività del 7,6%. Ora sono 638 negli ultimi sette giorni, con un tasso di positività del 10,4%. Continua a salire anche il numero dei tamponi processati. Nell'ultima settimana sono stati 6114. Un mese fa erano 4512. Per quanto riguarda i contagi dei comuni, questa è la situazione attuale. Tutto rosso nel basso Molise. Ci sono invece una trentina di comuni, soprattutto concentrati in provincia di Sernia, senza casi. Il record del contagio a Termoli, con 326 positivi, seguono Campobasso con 173 e Campomarino con 164. Da segnalare anche i 65 casi di Larino, i 61 casi di Santa Croce di Magliano, i 59 di San Martino in Pensili, se Isernia. Questa invece è la situazione dei ricoveri. Un mese fa al Cardarelli c'erano 58 pazienti. Oggi in ospedale ci sono 110 persone, compresi coloro che si trovano al Santimoteo di Termoli e al Gemelli Molise. A questi vanno aggiunti inoltre quei malati che negli ultimi giorni sono stati trasferiti in altre regioni. Infine i decessi. Ad ormai un anno dalla prima vittima in Molise, era il 9 marzo, questo l'andamento mese per mese. Appena 23 le vittime nella prima ondata, poi zero decessi per tre mesi. Infine l'impennata dell'ultimo periodo. Impressionante la concentrazione, quasi il 93% dei decessi molise è avvenuto negli ultimi tre mesi, con febbraio che si avvia ad essere il peggiore di tutti, con un parziale ad oggi di quasi 70 deceduti. Nel dettaglio 80 morti a novembre, 72 a dicembre, 76 a gennaio. Ma in Molise si chiedono in molti, si muore di più rispetto alle altre regioni? Ecco i dati aggiornati a metà gennaio. Al nord la situazione è peggiore, con 195 morti ogni 100.000 abitanti in Valle d'Aosta, 139 in Friuli, 116 in Veneto, 91 in Lombardia. Al centro-sud dati molto più bassi, ma è il Molise, che tra le regioni del Meridione ha il dato peggiore, con 67 morti ogni 100.000 abitanti, tanti se confrontati con i 49 della Campania o i 22 della Calabria. Partite le vaccinazioni degli over 80 anche ad Agnone, dove la somministrazione del vaccino è stata organizzata all'interno del Comune, con la collaborazione di medici in pensione e della protezione civile. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Partite le vaccinazioni degli over 80 anche ad Agnone, dove il Comune si è prodigato in prima linea ed ha messo a disposizione la stessa sede municipale per organizzare la logistica della somministrazione dei vaccini. A collaborare con i sanitari dell'ASRE, ma anche due medici in pensione, l'ex sindaco Gelsomino De Vita e l'attuale vice sindaco Giovanni Di Nucci. Ed è stato quest'ultimo che ha voluto somministrare la prima dose di vaccino ad uno degli anziani più avanti con l'età, Antonio Di Nucci, 95 anni, suo padre. Diamo questo contributo perché la campagna vaccinale è l'unico modo per arrestare questa epidemia. Ci vorrà un impegno organizzativo enorme, ma noi siamo pronti per farlo. Dedichiamo questa giornata a un collega purtroppo scomparso a causa del Covid, che è il dottore Antonelli, che ha lavorato presso l'ospedale di Agnone. Ringraziamo lo spirito di solidarietà che c'è e tutto il volontariato che si sta prestando per fare in modo che questa giornata sia una giornata molto importante per la salute pubblica. Il sindaco SAI ha voluto essere presenti in comune al primo giorno delle vaccinazioni per dimostrare simbolicamente la vicinanza delle istituzioni cittadine ai sanitari impegnati nella campagna vaccinale. Siamo qui a Palazzo San Francesco per iniziare questo percorso che ridarà speranza al nostro futuro. Infine la parte organizzativa e logistica, preparata e messa a punto dalla locale sezione cittadina della protezione civile, guidata anch'essa da un consigliere comunale. Noi come Associazione Nazionale Carabinieri Volontariere di Protezione Civile ci occupiamo della logistica, quindi abbiamo messo a disposizione sia un'ambulanza, sia un defibrillatore, tutto quanto per far sì che la vaccinazione avvenga nella massima sicurezza. Abbiamo creato un percorso a senso unico, ci sono dei volontari che aiutano i disabili, accompagnati dentro, si misura la temperatura, tutto nel rispetto delle norme. Il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente ha sottolineato a nome del Movimento Azione Molise che si sarebbe dovuto organizzare la sanità per evitare di riempire le terapie intensive aumentandone il numero. Si sarebbe dovuto creare un centro Covid per evitare il collasso degli ospedali e fare uno screening dei contagi e tamponi a tappeto. Ad un anno dall'inizio della pandemia ha concluso Valente, i molisani hanno certamente compreso che è necessario cambiare questa classe politica e alla luce dei tragici eventi non lo dimenticheranno più. Dopo la zona rossa in Basso Molise, la regione è passata in arancione, aumentano i controlli di polizia sul territorio, specie verso i fenomeni di assembramento. Insieme ai controlli, aumenta la collaborazione dei cittadini che denunciano i comportamenti illegittimi. Abbiamo sentito in proposito il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio. È passato esattamente un anno dall'inizio della pandemia e da un anno la Polizia di Stato insieme alle altre forze di polizia esercitano un controllo capillare sul territorio. A fare il punto della situazione, il questore della provincia di Campobasso Giancarlo Conticchio. L'attività di controllo è alla vista di tutti. Noi qua in questa regione, già dal primo lockdown, abbiamo dato massima attenzione ai servizi di prevenzione. L'invito che faccio ai cittadini è quello comunque di rispettare le regole perché rispettando le regole riusciamo a tenere quel distanziamento e riusciamo a tenere lontano questo virus. Soltanto nel pomeriggio di sabato scorso, vigilia del passaggio in zona arancione del Molise, le segnalazioni di assembramenti alla Polizia di Stato sono state oltre 100, un fenomeno deprecabile che si intensifica ad ogni cambio di zona. C'è da segnalare però la partecipazione dei cittadini nelle denunce. Mi spiace dire le sanzioni che le abbiamo fatte. Dobbiamo capire tutti quanti che questo è il momento di darci una regolata in senso positivo. Evitiamo gli assembramenti, evitiamo le feste private, evitiamo i locali e i circoli. Qui tramite YouPol rinnovo l'invito ai cittadini a segnalarci YouPol. Adesso, prima di andare in onda del servizio, è arrivata una segnalazione su YouPol dove ci segnalano aggregazione incontrollata. Giovani e anche, non solo giovani, di una certa età che festeggiano tranquillamente. Quello degli assembramenti è un dato a doppia lettura perché da una parte purtroppo si verificano questi fenomeni, ma dall'altra parte c'è molta sensibilità da parte dei cittadini che segnalano questi episodi stessi. Io ho apprezzato da subito in questo periodo di emergenza la sensibilità dei cittadini. Lo diceva lei prima, sabato ci sono arrivate centinaia di telefonate. Vuol dire che il cittadino ci tiene alla sicurezza e noi facciamo il possibile per garantire la sicurezza sanitaria in questo momento. Intanto gli agenti della Questura in servizio a Campitello hanno identificato una ventina di persone nel corso dei controlli. Sono state sanzionate otto persone, cinque uomini e tre donne, di cui due provenienti da comuni del Molise, attualmente in zona rossa e gli altri sei provenienti da altri comuni e da fuori regione. Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro, poiché le motivazioni adotte per lo spostamento non sono previste dalla vigente normativa. Analoghi controlli da parte delle forze di polizia proseguiranno anche nei prossimi weekend. Dopo il ricovero di pazienti covid fuori regione, il deputato 5 Stelle Federico ha chiesto al ministro Speranza di verificare quanti siano i posti effettivi di terapia intensiva a Campobasso. Intanto il comitato Cardarelli punta il dito contro i controlli dei comportamenti per prevenire la diffusione del covid. Sono carenti, dicono. Ascoltiamo Marta Martino. Tra i parametri utilizzati per individuare il livello di rischio di esposizione al contagio nei territori, l'ormai tristemente famoso RT, c'è il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Finora nei report settimanali inviati al ministero, la regione Molise ha fatto sempre riferimento ad una disponibilità complessiva di 39 posti letto, ma negli ultimi giorni, pur comunicando un tasso di occupazione in intensiva inferiore alla soglia d'allerta del 30%, l'azienda sanitaria ha dovuto trasferire i pazienti covid fuori regione. Una scelta incomprensibile a sollevare la questione è stato l'onorevole 5 Stelle Federico, che si chiede quante siano quindi i posti effettivi di terapia intensiva, visto che da una parte i numeri inviati a Roma parlavano di posti ancora liberi e dall'altra si è deciso di trasportare i pazienti covid fuori dal Molise. Pertanto il deputato 5 Stelle ha depositato alla Camera dei Deputati un'interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiarire una volta per tutte questa discrasia tra i dati comunicati e le disposizioni decise. Sulla gestione della pandemia da covid-19 esprime preoccupazione il comitato Pro Cardarelli, perché dice si sta facendo veramente poco e male a favore della riduzione dei contagi, unico punto che può ridurre i positivi e ricoveri in ospedale. Invece, dice il comitato, il controllo del rispetto delle regole comportamentali di distanziamento dei cittadini e il potenziamento delle attività di tracciamento dei contatti di esecuzione dei tamponi lascia molto a desiderare. Inoltre, secondo il comitato, si dovrebbe prevedere il potenziamento degli attuali posti letto di terapia semi-intensiva ed intensiva, incrementare le USCA a supporto delle persone malate a domicilio, creare covid hotel e potenziare la campagna vaccinale. Infine, c'è chi sottolinea come, in questo momento così delicato, si stiano verificando anche situazioni paradossali, come ultraottantenni chiamati a vaccinarsi a parecchi chilometri dal loro comune. A segnalarlo è Matteo Delrico, segretario provinciale di Campobasso del Partito Socialista. Da Termoli a Campomarino devono recarsi a Frosolone, da Castelmauro a Trevento, da Civita a Campomarano a Larino e, incredibilmente, per i non autosufficienti non è stata prevista la vaccinazione a domicilio. Una giornata di lutto cittadino in tutto il Molise, programmata per venerdì 26 febbraio e la proposta lanciata a tutti i sindaci della Regione dall'Associazione Qui si muore SOS Molise. Lo scopo è quello di accendere i riflettori della stampa nazionale sugli effetti della pandemia in Regione. Un gesto simbolico, hanno scritto in una nota, che ci auguriamo possa indirizzare l'attenzione nazionale sulla particolare e tragica realtà che il nostro Molise vive in queste ore. Parliamo ora delle conseguenze del Covid sull'economia. Secondo uno studio di ConfCommercio, la pandemia ha causato la chiusura di circa 240.000 attività nel corso del 2020 in tutta Italia e in Molise. Commercio al dettaglio in crisi, mentre si salvano le attività di prodotti alimentari e bevande. Il settore dei servizi letteralmente spazzato via. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Non poteva rimanere indenne il settore del terziario dall'ondata Covid. Un'emergenza che ha colpito in particolare le filiere del turismo e della ristorazione che hanno letteralmente azzerato i loro fatturati. Non si sono salvate neppure moltissime imprese del commercio al dettaglio e del comparto del tempo libero che hanno chiuso definitivamente i battenti. E la fotografia impietosa scattata da ConfCommercio che ha diffuso i dati dell'analisi aggiornata sull'evoluzione commerciale delle città dal 2012 al 2020. Uno studio che riguarda 120 città medio-grandi, 110 capologhi di provincia, più 10 comuni di media dimensione ed esclusione di Roma, Milano e Napoli. Per il 2020 l'Ufficio Studi di ConfCommercio stima una riduzione di oltre 300.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi, di cui 240.000 esclusivamente a causa della pandemia, a cui si deve aggiungere anche la perdita di circa 200.000 attività professionali. Complessivamente nel 2020 sono andati persi 160 miliardi di euro di PIL, 120 miliardi di consumi e il 10% di ore lavorate. Tra il 2012 e il 2020 sono spariti 77.000 negozi in sede fissa, con una riduzione del 14%. Di contro cresce dell'8,8% il numero di attività di alloggio e ristorazione, un trend che purtroppo riguarda anche i due capologhi molisani. Al Campobasso il commercio al dettaglio ha registrato una riduzione di attività, 35 nel centro storico, 41 nel resto della città, mentre si registra l'aumento solo nelle attività di prodotti alimentari e bevante, più 21 unità, e di alberghi, barri e ristoranti, soprattutto al di fuori del centro storico, con un incremento di 22 unità. A Esernia, nello stesso periodo, il commercio al dettaglio ha perso 37 attività, 20 nel centro storico, 17 nel resto della città. Anche qui, come a Campobasso, aumentano barri, alberghi e ristoranti, restando stabili nel centro storico e aumentando nel resto della città, con un aumento di 22 unità. In Italia, nel 2020, si è verificato un tasso di cancellazione straordinariamente basso, ma non perché le cose siano andate bene, ma semplicemente perché c'è stata una sorta di congelamento del tessuto produttivo a causa del blocco dei licenziamenti, della cassa integrazione e delle promesse di ristoro da parte del governo. Molte imprese sono già chiuse, meno 240 mila a causa del Covid, mentre nei prossimi trimestri la situazione, purtroppo, è destinata a peggiorare ulteriormente. Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha convocato per domani due sedute dell'Aula, una in mattinata, l'altra nel pomeriggio, alle 9.30, sono in programma le comunicazioni del Presidente Toma sulla gestione dell'emergenza sanitaria, mentre nella seduta pomeridiana, con inizio programmato alle ore 15, l'Assemblea valuterà una serie di documenti politici tra mozioni e interrogazioni. Le dichiarazioni rese da Domenico Testa, ex sindaco di Sernia, guarito e dimesso dalle corsie del Cardarelli, hanno contribuito a ristabilire la verità su quello che accade nel reparto infettivi dell'ospedale di Campobasso, che non è un girone infernale, come qualcuno strumentalmente vorrebbe far credere, ma solo un posto dove si lotta ogni giorno per salvare delle vite umane. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. La testimonianza dell'ex sindaco di Sernia, Domenico Testa, su quello che accade all'interno del reparto infettivi del Cardarelli di Campobasso, ha contribuito a portare alla luce quanto di buono fanno ogni giorno gli operatori del reparto che da un anno lavorano a ritmo continuo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Un'operazione verità necessaria anche per riabilitare l'immagine e i sacrifici di operatori sanitari finiti oggi in Molise, al centro del tritacarne del polverone di polemiche, che coinvolge anche loro e ingiustamente. È vero, al Cardarelli è morta tanta gente a causa del Covid-19, ma a tanta gente è stata salvata la vita grazie anche alla dedizione con cui i sanitari del reparto infettivi svolgono il loro lavoro cercando di alleviare le pene dei ricoverati come ha giustamente sottolineato Domenico Testa. Il primario del coronavirus, del Cardarelli e il personale sono persone a cui bisognerebbe dare la medaglia d'oro per la disponibilità. Erano disponibili nei riguardi di tutti noi, ci assistevano, ci facevano mangiare, si mettevano a disposizione per chiamare i familiari con il cellulare, avevano sempre una parola positiva nei nostri riguardi e questo ci ha aiutato molto. E allora è il caso di dire smettiamola di fare di tutta un'erba un fascio e ricordiamo che in Molise come in Italia tra le vittime del Covid ci sono tanti medici, infermieri e os che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo incuranti di quello che sarebbe potuto accadere anche a loro stessi. L'ultimo giorno di zona gialla è stato salutato soprattutto dai giovani con un bagno di folla anche ai Sernia con aperitivi e passeggiate nel centro storico della città. vediamo cosa è successo nel servizio di Barbara Fino. Folla dell'ultimo giorno per l'addio alla zona gialla nel centro storico di Sernia da ieri niente più pranzi fuori né aperitivi anticipati stoppa le gite fuori porta e fuori comune. E così il rimpasto di colori con cui il Molise torna in zona arancione ha spinto tantissime persone a concedersi complici limite e temperature una passeggiata in centro città. In tanti si sono concessi un aperitivo nei locali affollando il centro storico di Sernia e mettendo alla prova controlli e provvedimenti anti-assembramenti disposti dalle autorità locali. Solo l'intervento di due pattuglie della squadra mobile e dei carabinieri della Polizia Municipale è riuscito a far defluire centinaia di giovani che sostavano nella parte storica della città in prossimità di bar e ristoranti. Folla in piazza Celestino V, lungo Corso Marcelli in piazza Andrea di Sernia per l'ultimo aperitivo della Movida. Le forze dell'ordine hanno invitato gruppi di giovani a mantenere il distanziamento che inevitabilmente non è stato rispettato. Ultimi incassi intanto per bar e ristoranti quasi ovunque sold out ma non si fa in tempo a incassare i guadagni del sabato che già ci si prepara alla nuova serrata. Abbiamo dovuto chiamare i nostri ospiti e comunicare che purtroppo siamo chiusi. Una situazione non molto facile purtroppo quindi anche con gli acquisti fatti già per la settimana che entrava e speriamo solo che il tutto si risolva al più presto. Una situazione però veramente a mio parere non giusta per i ristoratori. Molise è ancora protagonista sulle reti televisive nazionali e questa volta con una delle sue eccellenze a tavola il tartufo nel programma L'ingrediente perfetto condotto da Roberta Capua sulla 7 il carpaccio di tartufo prodotto da una storica azienda molisana del settore è stato il tocco di classe di una ricetta proposta dalla conduttrice ma le telecamere hanno documentato anche come viene ricercato nei boschi e successivamente lavorato testimone di quest'arte Vittorio Palombo imprenditore parte di una famiglia che da oltre 20 anni ha avuto come mission familiare aziendale la valorizzazione del tartufo molisano e la sua affermazione sulle tavole di tutto il mondo. Bene, si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti.